benvenuti in questo terzo video dedicato alla risposta al transitorio in particolare agli esercizi abbiamo questo circuito in cui sono presenti quattro resistori e un induttore dobbiamo determinare la costante di tempo tau l del circuito la corrente icon l e le correnti nei resistori per t uguale tau l come fatto notare alla fine del precedente video la costante di tempo in un circuito rl è uguale all'induttanza equivalente fratto la resistenza equivalente quando chiaramente è possibile calcolarle globalmente nel nostro caso come si fa copiamo e incolliamo il circuito in modo da modificarlo eliminiamo l'induttore e anche tutto il resto che non serve e calcoliamo la resistenza equivalente di thevenin vista dai terminali da dove abbiamo rimosso l'induttore abbiamo il resistore r1 e il resistore r2 che sono in parallelo quindi possiamo scrivere che la resistenza equivalente è uguale al parallelo tra r1 ed r2 e questi sono in serie con r3 ed r4 quindi dobbiamo sommare al parallelo r1 r2 la serie r3 r4 essendo tutti i resistori da un resistori da un ohm abbiamo r1 per r2 facciamo prima il calcolo letterale esplicitando il parallelo tra r1 e r2 appunto più r3 più r4 ora sostituiamo i valori numerici abbiamo 1 fratto 2 più 1 più 1 cioè 5 mezzi ohm o anche se volete 2,5 ohm ora per quanto riguarda l'equivalente abbiamo un solo induttore e quindi sarà uguale a un r questo ci dà per tau l 1 fratto 2,5 cioè 0,4 secondi questa è la costante di tempo del circuito ora visto che la condizione iniziale di corrente nell'induttore è un ampere possiamo scrivere che la corrente nell'induttore è uguale a un ampere quindi uno scriviamolo per e elevato a meno t fratto tau l cioè t fratto 0,4 vale a dire meno 2,5 per t la richiesta del problema è il calcolo di con l per t uguale tau l e sappiamo che in questo caso con i valori numerici del problema approssimando abbiamo 0,37 ampere o se vogliamo 370 milliampere ora per determinare le correnti nei resistori posso pensare l'induttore come un generatore di corrente che eroga e alla meno 2,5 t ampere ridisegniamo il circuito quindi dovrei averlo già negli appunti eccolo al posto del l'induttore mettiamo un generatore di corrente questo eroga i con l di t uguale e alla meno 2,5 t ampere qui avevo già indicato la corrente i2 nel resistore r2 abbiamo la corrente i1 nel resistore r1 le correnti in r3 r4 saranno chiaramente uguali a quelle imposte dal generatore di corrente e quindi i con l quindi le correnti i1 e i2 escono dal nodo a e queste sono la somma della corrente i con l nel partitore che formano partitore di corrente partitore appunto formato da r1 ed r2 se vogliamo calcolare i2 questa sarà uguale a r1 fratto r1 più r2 per i con l di t chiaramente qui dobbiamo mettere un segno meno perché uscenti dal nodo a visto che i resistori sono uguali per quanto riguarda i1 avremo la stessa espressione quindi questa possiamo eguagliarla anche ai1 di t sostituiamo i valori numerici e abbiamo meno 0,5 per e elevato a meno 2,5 t ampere per t uguale a tau i2 di tau l uguale a i1 di tau l uguale a 0,5 per e elevato a meno 1 cioè 0,184 ampere o se vogliamo 184 miliampere quindi la corrente i con l all'istante 0,4 è 370 miliampere mentre le correnti i1 i2 all'istante sempre 0,4 secondi è 184 miliampere andiamo a simulare il circuito con l t spice apriamo un nuovo schematico abbiamo bisogno di quattro resistori quindi r1 r2 r3 r4 l'induttore mettiamo i valori componenti annulliamo la resistenza serie di default di 1 mili ohm dall'induttore scriviamo la condizione iniziale di corrente nell'induttore e poi la direttiva di simulazione possiamo prevedere un transitorio di 4 secondi che è 10 volte la costante di tempo tau bene avviamo la simulazione voglio il grafico della corrente nell'induttore e della corrente in r2 quindi aggiungiamo il plot plane ne selezioniamo uno quello superiore e andiamo con la pinza amperometrica sull'induttore ecco la nostra caratteristica curva esponenziale decrescente selezioniamo l'altro plot plane e andiamo a vedere la corrente in r2 ed ecco la corrente in r2 per quanto riguarda la prima quella nell'induttore da 1 ampere scendiamo a 0 per quanto riguarda la seconda da meno 500 miliampere cioè 0,5 ampere come abbiamo scritto andiamo a 0 ora per tau uguale a 0,4 abbiamo per quanto riguarda la corrente nell'induttore e sempre con le approssimazioni del caso 370 miliampere per il resistore r2 siamo come vedete a circa meno 184 miliampere ecco qui avevo dimenticato il segno meno per quanto riguarda la corrente i2 perché uscente ricordo dal nodo a bene finiamo qui per questo video in basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile mettetemi anche un like e vi ringrazio condividete i vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale perché no in descrizione i miei contatti email instagram facebook grazie un saluto a tutti e vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti